Clash of Clans 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 Truppe, madonna su madonna Cioè, oh, capacità truppe Oh, 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 ok Ehm, truppe Siccome, niente, andiamo a vedere Gli obiettivi che hanno completato Ragazzi, la ricompensa Ci sta tutta Ci sta tutta la ricompensa Intanto vediamo quanto sta qua Spendiamo la nostra Prima gemma, ragazzi Oh, che orrore Trovo una partita Perdiamo tre ore di scudo, intanto andiamo a trovare una partita Come si... Oh, 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 allora questo l'attacchiamo Cioè, 950 di risorse Facciamo il miglior attacco dell'universo Guardate come perdiamo Anzi, no, facciamo il secondo skip Non facciamo questo attacco No, no, dobbiamo fare un attacco Che dobbiamo prendere almeno 1000 di risorse 1000 di risorse 250, come posso io trovare 1000 di risorse con il municipio al 2? Cioè, ci vuole proprio un culo della madonna E io intanto ho sospendito tutte le visir Le visir, le monete Per cercare avversari con una linea di merda Guardate, guardate con quale ricerca Questo c'ha pure le mura, ragazzi Il castello del clan Cioè, oddio, oddio No, vabbè, questo no Si è recintato pure il muro Cioè, questo... No, ragazzi, forse era meglio il primo... Il primo d'attaccato Comunque Sì, alla fine non è che stanno villaggi qua Però dobbiamo fare un attacco online come si deve Ecco, 1000 di monete, ragazzi Cominciamo a buttare i nostri arcieri di merda Le buttiamo a cazzo di cane Il cannone tanto non ci vedrà Il capocannoniere qui non ci vedrà No, cazzo, c'è un altro capocannoniere Non mi sono accorto Andate sulle risorse Bastardi 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 Ah, adesso ho capito che le risorse ce l'ha pure in municipio Cioè, non ho capito Ma cazzo Cioè, ma ragazzi Lo vedete o no? Lo vedete o no? Cioè, cazzo, come ve lo devo identificare? Come cazzo? Cioè, c'è un capocannoniere che mi sta sparando Ragazzi Ma dove cazzo state? Dove le avete gli occhi? Siete dei malati? Uccidertelo Uccide, cazzo Un altro capocannoniere Ragazzi, non facciamo nemmeno il 50% No Il 50% forse lo facciamo Forse lo facciamo, ragazzi Dai, abbiamo raggiunto il 50% Però cazzo, c'è Perché? Perché non attaccate? Perché non attaccate quei cannoni? Guardate, un livello 2 Un cannone livello 2 Cioè, oddio, ragazzi Oddio Intanto abbiamo minuti in più In minuti in più Per continuare qua l'attacco Però ragazzi Non per qualche cosa Però sapete com'è? Sono rimasti sulle arcine Cioè, io Non è giusto Non è giusto Non è giusto Intanto vediamo Oi, oi Non spaccate troppo No, cazzo Ucciderteli E cannone Ma manco Ma anche il 100% mi fate Cazzo C'è un cannone Che vi sta sparando Non siete normali Non siete normali Fatevelo dire Non siete normali Intanto mettiamo ad addestrare qua Mettiamo ad addestrare Allora, facciamo un casino D'arcieri Coglioni E poi Facciamo questo Vai Vai ragazzi Non possiamo fare le pozioni E niente Continueremo Quando saranno tutti pronti Siccome dopo l'aggiornamento Hanno allargato Sto cazzo di mondo Mi tocca mettere Tutte ste casette di merda Ancora più lontano Per fare il bastardo Comunque Abbiamo appena finito Il capo cannoniere L'abbiamo fatto evolvere E intanto noi dobbiamo migliorare Migliorare Il deposito di sir No La torre dell'arciere No La miniera Sì La miniera Duro Le truppe sono pronte Ragazzi Stiamo Per fare un attacco Nuovo Allora Un nuovo attacco Semmai Comunque Non c'ha un cazzo Non c'ha nessun cannone Quindi noi andiamo Con arcieri Ci buttiamo No Dovete spaccare il muro Dovete spaccare Ma che cazzo andate Oh Questo è il deposito Oh Non me ne sono accorto Comunque noi il deposito duro Dovevamo prendere Però noi La nostra tattica È entrare da qui Entrare da qui Quindi poi distruggere tutto Vai raga Senza entrare Ragazzi Distruggiamo Senza entrare Ragazzi Distruggiamo Senza entrare Cioè noi Abbiamo le arciere Barbari Più schifose Ma nel tempo Più forti E qua c'è il capo cannoniere Che continua ad attaccare Oddio Ragazzi No Che cazzo fa Eccellente 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 Ragazzi Eccellente Vabbè ho fatto il 50% Come 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 50% Ragazzi il 50% Andiamo a sbonnare Ancora di più il culo Questi Cazzo C'è uno che mi sta sparando Che cazzo andate Ma perché non ci sono giganti Quando servono Comunque mi sa che Devo migliorare Il deposito degli sir No Di monete Manca quello degli sir Cioè io dovrei maxare Tutto Onestamente Cazzo C'è un cannone C'è un cannone Che cazzo mette Le casette E costrutture qui Cioè Le difese Vi fanno proprio schifo A voi Ammette Ah Ovviamente qualcuno ci pensa Qualcuno ci pensa A questo cannone Qualcuno ci pensa Cazzo questo qua fuori Rimasto Aiutatemi Cazzo Oh oh Ragazzi Ha spaccato Ha spaccato Di brutto Vai 100% 100% Grandi successi Ragazzi Grandi successi Grandi successi Con il nostro Con il nostro Il nostro Grandi successi Grandi successi Allora ragazzi Miglioriamo Prima di tutto qua Ci facciamo 10 barbari Eh no 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 Eh 10 arcini Bene ragazzi Io vorrei concludere Qui Con questo Con questo video Vorrei concludere Bene ragazzi Per questo video è tutto Grazie per la visualizzazione Spero che il video vi sia piaciuto E ricordate di commentare il video E darmi qualche consiglio Su Crash of Clans Perché non sono dei migliori Eh Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 ciao